Taglio del nastro, martedì 1 ottobre al cinema la compagnia della rassegna di festival internazionali 50 giorni di cinema a Firenze, la più importante stagione cinematografica della regione che si protrarrà fino al 13 dicembre, fiore all'occhiello della proposta culturale della Toscana. Fanua Chinese Film Festival, Middle East Now, France Odeon, Festival dei Popoli, Lo Schermo dell'Arte, Festival di Cinema e Donne, Florence Queer Festival, River to River, Florence Indian Film Festival e Nice per Irish Film Festa sono i 9 festival che compongono la 50 giorni di cinema che terminerà il 13 dicembre con la seconda edizione dei David Rivelazioni Italiane, Italian Rising Stars. Oggi il cinema è un elemento di grande promozione, di grande valorizzazione, innanzitutto culturale perché nella dimensione mediatica anche i giovani sentono fremere attraverso la visione di un film quello che è il loro ideale, i loro valori, la loro partecipazione emotiva e conseguentemente ha un valore formativo, educativo straordinario. In secondo luogo di promozione di un territorio perché è indubbio che dai tempi di camera con vista quando un film è riuscito da il senso del territorio dove è girato si crea un fenomeno di attrazione turistica fondamentale. In terzo luogo sul piano strettamente identitario e culturale e conseguentemente anche i cittadini della stessa realtà dove il film viene girato sentono riconoscere quello che è l'aspetto di identificazione e di partecipazione emotiva. Devo dire che proprio per questo noi abbiamo inserito nella programmazione europea anche specifici bandi che si rivolgono alla capacità di corrispondere fondi, esattamente 3 milioni il primo, 3 milioni il secondo, a chi produce film in Toscana e stanno avendo un grande successo. In programma nove festival che aprono in Toscana una finestra sulla migliore produzione cinematografica internazionale con un programma di film tra lunghi, documentari, corti e film d'animazione accompagnati da presentazioni degli autori, dei protagonisti, talk, eventi, mostra, eventi food e performance. Rimettiamo insieme, non per la prima volta, una proposta cinematografica di qualità che ha una dimensione internazionale. Di questo siamo particolarmente lieti, abbiamo delle collaborazioni importanti, non solo la regione toscana che come casa del cinema della Toscana rappresentiamo, il comune di Firenze, la cassa di risparmio di Firenze, la camera di commercio, quindi il mondo delle imprese e delle istituzioni che accompagna la dimensione internazionale cinematografica. Ogni anno alla 50 giorni partecipano decine di migliaia di spettatori residenti o provenienti da altre città o da altri paesi, attratti dalla programmazione di film in anteprima proposta dai festival internazionali. Noi siamo contenti di dare il nostro contributo a un festival importante. Quando ci sono delle attrattive culturali diverse si delocalizza anche l'attenzione dai soliti punti di attrazione turistica e quindi questo contribuisce a valorizzare le imprese e commercio della città. La fondazione è vicino a tante iniziative culturali della città, non solo culturali anche per la povertà, per la fragilità eccetera. È ben felice di sostenere un'iniziativa del genere. Mettendo insieme più popoli, più culture in questo momento difficile anche politicamente potrebbe servire anche per riavvicinare culture diverse, opinioni diverse e confrontarsi su un tema comune che è quello della cultura. Al taglio del nastro che dà il via alla più grande stagione cinematografica in Toscana presenti insieme ai rappresentanti istituzionali i direttori dei festival che compongono la rassegna.